Due stand informativi, uno la mattina presso il punto vendita di Viale Europa, l'altro tutto il giorno a Biscollai, per portare avanti anche in questo 25 novembre la campagna Questo non è amore. La questura di Nuro e i punti vendita Conad del capoluogo sono insieme per il secondo anno consecutivo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con personale specializzato della divisione anticrimine e della squadra mobile a disposizione dei cittadini per rispondere alle loro domande e per sensibilizzarli sul fenomeno della violenza di genere I reati sono purtroppo in crescita, nonostante anche la normativa che ci aiuta in questo senso però il fenomeno non va affrontato solo in termini repressivi ecco perché noi oggi siamo qui a ricordare ancora una volta a tutte le donne che hanno necessità che ci sono professionalità all'interno della Polizia di Stato che sono pronte all'ascolto senza giudicare e senza alcun pregiudizio proprio per aiutarli a risolvere questo e a uscire dalla violenza che subiscono che molto spesso resta confinata nel timore di non essere compresi, nella vergogna, nella paura anche nel non voler accettare un fallimento magari legato a situazioni relazionali che molto spesso spingono le donne a non denunciare un fenomeno per il quale la società è insieme a SRL e da anni in prima linea sul fronte della sensibilizzazione noi come Conad ma anche come aziende insieme a SRL ci siamo sempre sentiti in dovere di supportare le associazioni o le istituzioni che si impegnano quotidianamente per proteggere le donne vittime di violenza ma anche i minori in questa piastetta qua davanti a noi abbiamo collocato una panchina rossa che è un gesto per lanciare un grido di speranza per queste persone non siete sole, denunciate!